Le presunte pressioni nel processo per il disastro ambientale di Bussi sul Tirino continuano a far discutere. Il CIP di Campobasso Veronica Dagnone ha archiviato il procedimento per infondatezza della notizia di reato nei confronti di Letizia Martini e Rosella Barchiesi, due dei sei giudici popolari della Corte d'Assise di Chieti che nel dicembre del 2014 decisero l'assoluzione di tutti i 19 ex dirigenti della Montedison imputati nel processo delle megadiscariche. La sentenza fu decretata in primo grado dal giudice Camillo Romandini, presidente della Corte d'Assise Teatina, lo stesso che ha denunciato le due giudici popolari. Gli imputati furono assolti per il reato di avvelenamento delle acque in quanto si leggeva nella sentenza il fatto non sussiste. Il reato di disastro ambientale doloso invece fu derubricato in colposo consentendone la prescrizione. Se condanniamo per dolo gli imputati di Edison, avrebbe detto Romandini alla Martini qualche giorno prima della sentenza, può succedere che loro si appellano e possono farci causa singolarmente a ognuno di noi. A lei va di giocarsi tutta questa roba? Questo quanto si legge nel dispositivo del GIP che nella sentenza di Campobasso ha accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero. Il caso, sommato a una fuga di notizie che avrebbe consentito agli imputati di sapere in anticipo che sarebbero stati assolti, attirò anche le attenzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva avviato un procedimento disciplinare. Il tutto però si è concluso in un buco nell'acqua. Romandini fu rimosso dalla Corte d'Assise di Chieti e promosso alla Corte d'Appello di Roma. E ora anche la vicenda delle giudici popolari è conclusa. Gli elementi probatori sono insufficienti a sostenere la falsità delle informazioni rese dalle indagate nel corso del procedimento penale, come si legge nella sentenza del GIP Dagnone. I giudici di secondo grado all'Aquila invece avevano riconosciuto il disastro ambientale e quindi condannato 10 degli imputati, mentre avevano dichiarato prescritto l'altro capo di imputazione, l'avvelenamento colposo delle acque. La Cassazione successivamente nel 2018 aveva annullato le sanzioni, ritenendo il processo prescritto prima della sentenza di primo grado, ma passaggio decisivo per il proseguo delle bonifiche aveva confermato che il disastro ambientale e l'avvelenamento delle acque vi erano stati.